La mia vita è andata a vedere la partita di fotteballo a Napoli-Roma. Quello è il tifoso, ve lo sapete. La mia vita è andata a prendere un giorno, per tre ore. Io, sapendo di questi miti, la verità, mi sono purgata. Quanta è simpatica. E' che ci stanno qua venendo a mangiare. Marcherone alle vongole, polla stella alla cacciatore, fitte pesce, mozzarella in carrozza, patelle cozza, formaggio tronchier, dolce, caffè, frutta e giolata, pure di più. Ma basta, 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 come facetevi una cosa. No, compadre, io mi ho pregato solamente il cielo che a Napoli non perde. Ma perché si perde non so mangiare? Non solo non so mangiare, ma corrono pure ammazzate. E' che ammazzate, Nami? Continua, assottatevi. Ditevi una cosa, se io a Napoli vengono. Ah, se vengono a Napoli non ho mangiato, mio marito ci porta tutto quanto a stancarla. Ma no, fa vengono a Napoli. E' il mio marito. Ce voleva tanto per la vista forte. Pascali, Pascali che ha fatto un angolo? Niente, niente, hai mai aperto, 4 a 0 hai mai aperto. Ora si, non so facci giunto. Ah, voi qua state, si? Stava aspettando a voi per mangiare. Per mangiare? Eh. Voi parlate di mangiare, mamma, mangiare la cosa. Compa. Ma come voleva vengere, con chi stiettatore che stava in dalla casa viva? Ecco, papà, cattito. Anche a compare, a compare. Non risponete. Pascali, calmatelo pochi, amma calma. Commancia la calma. Commancia la calma. Ah, addio bravo. Ma come, con un pallone facite tanta pazzita. Con un pallone? Beh, voi c'è che voi. Ma che non capite voi? Che la scienza è calcifica. E non parlate di pallone perché sennò venga pazzata la città, eh. Ma ci stanno chiamando a mano. C'ho già molto nazionale in una casa viva. Sì, allora, così. Ma come, due voti. Due voti. Pallone stava portassi in una porta avversaria. E' sulla linea fatale il pallone si è ammusciato di botte. Si capite? Si è ammusciato il pallone. E' bene, è giusto. Non si può accettare un gollonuscio. E lì il pallone si è ammusciato perché è stata frenata dalla lotta. Come si dice, dalla bozzancara. Ah, ah. Poi questa polla fatta che lo piazzia carognone l'arbitro. Senza manca tre centesimi e cora piazza. Belluto! Ma io vago a battere in tuo treno. Parola di loro vago a battere. E poi a te caccelata. Come va a mangiarla prima? C'è il ma a mangiarla. C'è il ma a mangiarla. Non mostro zitta perché se lo ha a commencio prima a lui, eh. E' una mia. Ma aspettate. Ma chi lo mostro a mano va a capote? Caccia a nilla. Caccia a nilla parte fuori visto su due statui, caccia a nilla. Ma come è che state caggieranno eh? Eh, ti lì o Napola da lunghe. Umarò. Un Napoli non serve. Ehm. Un villaetto Napoli non serve. Un Napoli è la piu' bella squadra del mondo. A me niente! Umarò, la faccia un'altra. Ma non si faccia un'altra. Ma no, la faccia un'altra cosa. Ma no, la faccia un'altra, la faccia un'altra. La faccia un'altra. La decida una. La faccia un'altra. Ma non si che lo faccia una porta. Ah, non si che lo aspetta una porta. «Viva uих!» «Ache sì? Viva uих!» «Ei, è della parola! Ecco mo, mangio senz' attempts. »M 헤occo potete? «Como mangio senz' desires. — Le cantano che c'には nape誤!» «Mamma mia, bella! «Ma come puiser sin bacano» —Manciame! Evo! Grazie a tutti.